la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Uno News sfogliamo le pagine dei quotidiani, vediamo quali sono i principali argomenti trattati dai giornali in edicola partiamo dal mattino nazionale, la nuova riforma della scuola, proteste contro il governo però il mattino si chiede perché queste proteste ma in particolare in apertura in primo piano la riforma vediamo quali sono i punti particolari, i punti più salienti di questa riforma della scuola il titolo scuola, poteri e ai presidi e premi i dirigenti sceglieranno gli insegnanti, saltano gli scatti di merito, resta l'anzianità via il disegno di legge, assunti 100.000 precari a fine percorso poi cattedre solo per concorso e rinvio invece sul DDL e sulla RAI e infatti il commento, vediamo, riforma a metà, si doveva osare di più continuano quindi le proteste, il copione si può dire cinquantennale è stato rispettato ancora una volta in migliaia studenti e professori ieri in piazza per difendere la scuola pubblica ma da quale pericolo o minaccia francamente non si è capito andiamo avanti, il focus sanità, lo spreco degli esami inutili vale 13 miliardi, ancora il caso, i vescovi, Berlusconi resta lo scandalo la NM difende i PM e di spalla domani gratis in edicola con il quotidiano il mattino l'abbraccio di Napoli al Papa con il mattino andiamo di taglio alto, lo sport ieri si sono giocate le gare di Europa League vediamo il Napoli, unica squadra vincitrice il titolo ciclone Higuain, il Napoli vola sconfitta la Dinamo Mosca per 3 a 1, quarti a un passo Russi in vantaggio, poi il Pipita si scatena e ribalta la sfida con una tripletta da incorniciare il punto, lo scatto d'orgoglio che fa la differenza e ancora per il personaggio tutti in piedi per Gonzalo Genio e Furore per le altre gare invece ricordiamo la sconfitta del Torino e dell'Inter e il pareggio tra Roma e Fiorentina andiamo di taglio basso, quindi lasciamo lo sport il titolo commissario a Bagnoli, dubbi del colle, cantone, controllore ma non gestore oggi la nomina più spazio al comune e ancora torna la politica, il San Carlo si ferma il sindaco sponda ai precari e la protesta mette a rischio il Turandò questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo ora sulle notizie di primo piano parliamo proprio della scuola quindi vediamo nel dettaglio la riforma della scuola ieri votata vediamo il titolo l'istruzione scuola potere ai presidi su assunzioni e premi stabilizzati 100.000 precari congelati 23.000 della materna ai supplenti, a settembre disponibili solo 10.000 cattedre per le classi di concorso esaurite ancora il nodo il Parlamento ha poco tempo per il via libera non escluso il decreto e poi nella fotonotizia le immagini dei cortei nelle città 50.000 studenti in piazza scontri e fumogini a Milano andiamo di taglio basso vediamo i punti principali per l'autonomia dirigenti non con super funzioni ma soggetti alla valutazione il fisco sgravi per le paritarie 5 per mille a school boots bonus scusate le card del docente formazione e cultura 500 euro per aggiornarsi e ancora bonus eccellenze 5% di aumento per i migliori resta lo scatto di anzianità e le materie arte inglese musica ed educazione motoria questa è la pagina dedicata le pagine di primo piano dedicata alla riforma della scuola il mattino approfondisce ulteriormente anche nelle pagine successive noi però proseguiamo andiamo sempre su un'altra pagina di primo piano parliamo dei fondi dell'unione europea vediamo il titolo l'allarme fondi unione europea la spesa al sud frenata dai lavori pubblici da uno studio del res costano il 50% dei soldi europei ma con tempi infiniti le scelte al nord l'esecuzione o l'acquisto di servizi pesa per il 44,5% mentre nel meridione solo per il 24% vediamo una parte dell'articolo un paradosso tanto evidente quanto irrimediabile almeno per ora se la spesa dei fondi europei ha marciato a rilento nel sud dove peraltro l'accelerazione come nel caso della campagna è stata evidente negli ultimi mesi non è solo colpa delle regioni o degli enti locali in generale fermi restando in adempienze politico-amministrative errori procedurali e lentezze burocratiche di ogni tipo che la stessa Unione europea ha più volte riconosciuto e sottolineato c'è un dato che pesa di più di quanto finora è stato considerato è il ricorso massiccio ai lavori pubblici nell'utilizzo dei fondi strutturali di Bruxelles per recuperare il gap rispetto alle aree più sviluppate del paese le regioni hanno puntato su opere infrastrutturali di importi considerevoli con la conseguenza che i tempi di realizzazione e dunque la spesa dei soldi europei si sono inevitabilmente allungati visto che in media occorrono non meno di otto anni in Italia per portare a termine un'opera al di sotto dei 50 milioni e 10 anni per quelle superiori ai 100 milioni lasciamo questa pagina andiamo ora sulle pagine del mattino di Salerno vediamo il titolo di apertura andiamo a Salerno vestuti vincono i tifosi salva la curva nel vecchio stadio il museo della salernetana l'assessore De Maio tempi stretti per i lavori l'ultimo atto del soprintendente Miccio estesi vincoli no all'abbattimento progetto da correggere e intanto la carica lo titolo Lellarechi pieno in 20 mila contro il Matera andiamo a centro pagina a Casalesi il pentito tiremballo Carpinelli processo Cosentino Valente l'ex sindaco di Giffoni faceva voti con il business dei difiuti la difesa del politico da sempre in prima linea nella lotta all'accamorra e ancora un'altra inchiesta Maxi sequestro al tesoretto dei da ponte mentre a Rofrano il PM accusa Cammarano prove schiaccianti subito a processo andiamo di fondo la sanità assunzioni sbloccate una svolta arrivano i rinforzi in camice bianco partono le procedure per reclutare un migliaio di medici e infermieri il piano di assunzioni in campagna è sostenuto dal presidente della regione Stefano Caldoro in qualità di commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario il governatore ha appena firmato due decreti che autorizzano i manager di Argl e ospedali a individuare più operatori in deroga parziale al blocco del turnover non solo per il bienio 2011-2012 altri 511 sono chiamati a subentrare a personale in pensione nel 2013 e nel 2014 andiamo avanti la politica caso multe per Alfieri scatta l'iter decadenza mentre per quanto riguarda le rubriche del quotidiano il mattino di taglio basso il ricordo università e giornalisti premio nel nome di Sappio e le riflessioni il teatro di De Cristoforo la passione e la ricerca lasciamo questa prima pagina andiamo avanti andiamo ora sulle pagine del Cilento e del Vallo di Diano in apertura parliamo proprio del caso di Rofrano e del sindaco Cammarano per il quale è stato richiesto dal PM il rinvio a giudizio vediamo il titolo Cammarano chiesto il giudizio inchiesta shock sul sindaco il fascicolo passa alla procura distrettuale l'accusa pedopornografia niente udienza preliminare e il PM prove schiaccianti andiamo avanti le indagini un migliaio di file a luci rosse sul computer si cercano i siti dai quali provengono e a Camerota droga illegale della segreteria non la coltivava della segretaria scusate mentre a San Mauro Cilento di spalla assediati dai cinghiali una lettera al ministro vediamo passeggiano liberamente nel centro abitato i cinghiali sono diventati un vero e proprio incubo per i residenti e sono tanti cittadini coltivatori e non che bussano alla porta del sindaco Carlo Pisacane per chiedere aiuto il primo cittadino ha quindi denunciato con un'ammissiva la grave situazione al ministro dell'ambiente Gianluca Galletti al commissario presidente del parco nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburnia Milcare Troiano e al direttore dello stesso ente Angelo De Vita vediamo una parte delle dichiarazioni la popolazione di San Mauro è ostaggio di questo animale e non sa come reagire terreni scavati orti devastati reti per la raccolta delle olive strappate un disastro che colpisce soprattutto gli agricoltori andiamo avanti a Roccadaspide schianto sulla statale muore anche Rosa è la seconda vittima del terribile incidente non ce l'ha fatta Rosa Gorrasi la 63enne è rimasta coinvolta nel tragico incidente stradale martedì scorso in località Fonte in cui ha perso la vita Antonia Quaglia di 84 anni le condizioni della donna sono apparse sin da subito disperate dopo essere stata trasportata in un primo momento all'ospedale di Roccadaspide i medici si sono immediatamente resi conto della gravità delle condizioni in cui Versaved è stata trasferita d'urgenza al Ruggi di Salerno purtroppo non ci sono state molte speranze a cui aggrapparsi spiega un amico di famiglia i medici sono stati abbastanza chiari sin dall'inizio andiamo avanti a Sassano la casa dell'acqua resta al buio il comune chiede danni all'Enel l'azienda dell'energia bollette non pagate l'Enel deve esercire grave danno di immagine che ha causato al comune di Salerno al comune di Sassano scusate con questa motivazione l'amministrazione guidata da Pellegrino ha deliberato per chiedere i danni all'azienda che si occupa tra le altre cose di distribuire l'energia e lasciamo le pagine del quotidiano il mattino ora andiamo invece in Basilicata vediamo dalla prima pagina di La Nuova del Sud quali sono i principali argomenti in apertura Pittella ingolosisce i sindaci estrazioni petrolifere e utilizzo delle royalty il governatore chiama a raccolta i primi cittadini un'altra operazione verità nel solco dello sblocco Italia sul tavolo le buone pratiche e il modello Calvello coinvolti anche i comuni non direttamente interessati dalle trivellazioni e stamane Turro Lucano del sottosegretario Almise Vicari strette di mano in regione con il sindaco di Potenza andiamo avanti zero privilegi proposto dal Movimento 5 Stelle sui costi della politica Leggeri e Perrino taglia le indennità dei consiglieri e vitalizi così si recuperano risorse per i cittadini ancora il risparmio tagliamo stipendi gli assessori e commissioni sempre a centropagina Guglielmi della Will nella funzione pubblica quadri dirigenti giovani a Rio Nero muore e i randaggi che accudiva vanno al funerale andiamo di taglio alto un pc pieno di foto compromettenti Laurenzana le immagini dei minori che si prostituivano trovato sul computer della Canon ha arrestato un 25enne che offriva soldi e ricariche telefoniche in cambio di prestazioni sessuali con dei minorenni per la giustizia giustizia tributaria l'anno scorso definite circa 900 controversie vediamo come chiude la prima pagina della nuova del sud film commission in due anni ha prodotto il nulla trasporti comune di potenza dopo anni di proroghe arriva il bando europeo per la viabilità variante di Brienz l'ANAS mette in campo 64 milioni e a milioni con il movimento 5 stelle noi proponiamo riduzione delle spese il sindaco il taglio dei posti per lo sport serie D il caso d'Agostino si chiude con una multa all'Andria per la Lega Pro il giudice sportivo ferma per un turno 4 lucani e con questa pagina di la nuova del sud ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco con il resto dei nostri quotidiani bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa dopo questa breve pausa pubblicitaria andiamo a sfogliare le pagine della città vediamo il titolo di apertura arrivano le assunzioni per la sanità in campania vediamo il titolo sanità e voto pronti mille posti questa così titola per l'argomento la città l'annuncio di Caldoro intanto il PD in crisi perde Luca alle urne probabilmente il 31 maggio andiamo nei box in alto parliamo delle notizie di carattere nazionale sicurezza raddoppiate le pene per rapine e furti in casa e ancora il rubighet per lusconi gelo dei vescovi la morale e altra cosa l'anniversario i due anni di Francesco hanno cambiato la chiesa andiamo a centro pagina cantieri e carta bollate contenziosi delle opere bruciano milioni centinaia di migliaia di euro ecco quanto costano gli stop imposti dalla burocrazia alle imprese interessate a realizzare opere pubbliche dal crescent ai parcheggi di piazza cavur gli imprenditori pagano interessi da capogiro consorzio farmacie licenziato per denunce no soltanto per danni e nella valle dell'Irno camorra sequestrati beni per 500 mila euro andiamo di fondo le riforme consiglio dei ministri i presidi scelgono i prof resta il rebus dei precari il leader senza maglia e ancora istituzioni maltrattate dai cafoni questo per quanto riguarda gli articoli correlati nel reportage sempre di fondo viaggio ad Alfieropoli il sindaco fa l'imperatore di spalla Giffoni Vallepiano a fare rifiuti pentito accusa Carpinelli ai tempi dell'emergenza rifiuti in campagna anche il centro-sinistra partecipava al business degli impianti un pentito chiama in causa Carpinelli l'inchiesta giudice nei guai per frode processuale frode processuale falso ideologico e abuso d'ufficio sono le accuse mosse a sei indagati tra cui un giudice e un vice prefetto forestali va in piazza la rabbia dei senza paghe lavoratori forestali sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi andiamo di taglio basso la cultura passione cineforum e boom a Salerno ancora lo sport salernitana i numeri del primato la salernitana ha riacceso la passione dei tifosi i numeri da primato dei granata di menichini questa è la prima pagina della città andiamo nelle pagine interne di primo piano vediamo per quanto riguarda le prossime elezioni regionali i candidati la carica di governatore la corsa alle regioni Stefano Caldoro di Forza Italia Vincenzo De Luca per il PD Marco Esposito Mo e Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle e continuiamo proprio per quanto riguarda la questione PD condanna De Luca al PD aspettano le motivazioni intanto al Nazareno c'è imbarazzo funzionale lo slittamento della data del voto Renzi avrebbe il tempo per trovare una soluzione e torna in alto il nome di Orlando lasciamo anche questa pagina andiamo ora sulle pagine dedicate al territorio a sud di Salerno parliamo delle aree del Sele del Vallo di Diano e del Cilento in apertura andiamo a Giffoni Vallepiana rifiuti e voti pentito accusa Carpinelli gli lasciamo gestire l'impianto di Giffoni per un ritorno elettorale l'ex primo cittadino sempre contro i casalesi e intanto di taglio alto a Rofrano fotopedofile chiesto il giudizio immediato per il sindaco per evidenza della prova questa la motivazione del sostituto procuratore penna per richiedere il giudizio immediato di Cammarano andiamo avanti a centropagina di Spalla il caso causa di risarcimento ma il cliente non lo sa l'avvocato nei guai e a Polla sito invaso dai porno mistero in comune sul rinnovo del canone vediamo una parte dell'articolo agli hacker non importa nulla del sito internet del comune di Polla che da mercoledì mattina si è trasformato in una pagina che pubblicizza incontri erotici inizialmente si pensava ad un attacco da parte di qualche pilato informatico tanto che il primo cittadino Rocco Giuliano aveva annunciato che avrebbe esporto denuncia per interruzione di pubblico servizio e per chiedere risarcimento del danno di immagine arrecata al comune andiamo avanti a San Gregorio Magno invece notizia di cronaca fuga di gas ustionati padre e figlio l'esplosione in un'abitazione di via Lordi indagano i carabinieri fuga di gas con successivo incendio all'interno di uno stabile padre e figlio ustionati ricordiamo l'uomo di 44 anni è ricoverato al Cardarelli di Napoli per la gravità delle ferite riportate mentre il figlio dodicenne invece è presso l'ospedale Oddio Liveto Citra andiamo avanti incidente sulla provinciale Accentola due agenti feriti a Poderia mentre a Buccino senza stipendio da 11 mesi occupano l'aula consigliare stiamo parlando dei dipendenti degli operai della Ergon queste alcune notizie che troverete sulla città ora andiamo sulle cronache il titolo di apertura appettito in guai a Carpinelli processo Eco4 Giuseppe Valente gestiva cassa e assunzioni negli impianti a giffoni poi la scoperta dell'acqua calda il centro-sinistra era interessato alla gestione dei rifiuti in Campania questo è il commento andiamo avanti election day il 31 marzo Cantone Gela De Luca chi è condannato non può ricoprire incarichi pubblici e ancora chi trafficava in droga il pentito Giannone di Vela altri particolari sul delitto di stellato il mandante dell'omicidio fu Maisto intanto dalla provincia Canfora manda a casa 40 dipendenti andiamo a centro-pagina sanità in Campania Caldoro sblocca il turnover oltre mille assunzioni soddisfatto il governatore cambio di marcia il presidente della regione Campania Stefano Caldoro ha emandato due decreti con cui autorizza le aziende sanitarie a procedere all'assunzione complessiva di 1118 unità anno c'era estorsione alle prostitute arrestato Fioravante Resa mentre a Scafati l'imprenditore Longobardi non pagherà le tasse comunali fino al 2017 e infine grandi risate ad Agropoli le Iene provano a sbranare Alfieri per il trucchetto sulla incompatibilità e lasciamo la prima pagina di Le Cronache e restiamo sullo stesso quotidiano andiamo ora invece sulle pagine di primo piano per parlare delle prossime elezioni regionali vediamo il titolo di apertura Cantone stoppa De Luca è stato condannato il presidente dell'autorità anticorruzione difende la legge Severino con una sentenza non si possono ricoprire incarichi pubblici il consiglio dei ministri ha deciso sarà election day il prossimo 31 maggio andiamo avanti l'appello il candidato alla caccia di Paolucci torni nel PD per le alleanze UDC verso la scissione Cobellis non molla De Luca e andiamo avanti a centro pagina si va in deroga al turnover oltre 1100 assunzioni nella sanità Caldoro ne firma due in 400 potranno entrare a far parte delle strutture mediche salernitane infine Napoli solo un incontro tra amici il sindaco blinda dirigente e predecessore dopo 20 anni con lui il rilassamento è fisiologico lasciamo questa pagina andiamo sulle pagine delle notizie del Vallo di Diano a Rofrano il sindaco Cammarano ha processo scoperto a febbraio durante i controlli fiscali nel suo studio di commercialista l'inchiesta della procura di Vallo della Lucania si aggrava la posizione di Nicola Cammarano nel suo pc i finanzieri hanno rinvenuto oltre 900 foto hard di Lolite e ancora cambia il magistrato il fascicolo passato a PM Penna che ha chiesto il giudizio immediato immagini di ragazzi tra 13 e 18 anni rischia fino a tre anni di carcere intanto a Sala Consilina l'annunciato spostamento del mercato dall'attuale posizione nei pressi e all'interno del campo sportivo torna in centro vediamo il mercato in centro lavori allo stadio il tutto dovrebbe avvenire dopo le festività Pasquali e a Sala Consilina lavoro pubblico utilità e sicurezza stradale sabato alle 17 quindi domani presso l'aula magna delle scuole elementari di via Matteotti ancora Sala Consilina continuano le tentate truffe in nome della diocesi a centro pagina si torna sul caso del comune di Polla vediamo funziona regolarmente il sito del comune finito nel mirino degli hacker è tornato ad essere visibile il sito ufficiale dell'amministrazione comunale di Polla sito che per alcune ore era diventato hard e che è anche colpa del significato spagnolo Polla andiamo a Sant'Arsenio questione uscita dal parco già 200 firme raccolte l'assemblea si riunisce il 16 marzo a Vallo il confronto tra amministrazioni e cittadini infine di Taglio Basso Sassano Casa dell'Acqua al Buio danno d'immagine il comune fa causa all'Enel e sulle pagine di Cronache del Salernitano termina la nostra segna stampa alle 13.45 il nuovo appuntamento con l'informazione con il nostro Tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti